Nel nostro cammino di lettura degli Atti e degli Apostoli noi abbiamo fatto l'introduzione, abbiamo visto il primo capitolo, oggi tocca il secondo. Sotto il profilo liturgico non siamo proprio esatti perché nel secondo capitolo degli Atti e degli Apostoli noi toccheremo il tema della Pentecoste e invece siamo vicini a Natale. È vero che il Natale senza lo Spirito Santo non ha senso, tuttavia dobbiamo tenere presente questa distanza. Se noi leggiamo in maniera continua tutto il secondo capitolo, io non so quanti di voi l'hanno fatto, noi troviamo quattro brani distinti. I primi 13 versetti riguardano l'avvenimento della Pentecoste. Poi abbiamo un discorso non lunghissimo ma abbastanza corposo di Pietro. Abbiamo un breve racconto che segue e narra come ci siano state le prime 3000 conversioni e chiude il capitolo un sommario. Una specie di breve pennellata con cui Luca ci dà le caratteristiche di questa comunità primitiva. Vediamo brevemente, siccome il testo è piuttosto lungo, vediamo brevemente di leggere subito subito senza troppi commenti la prima parte di questo capitolo. Siamo al capitolo secondo degli Ate degli Apostoli e ascoltiamo i versetti dall'1 al 13. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene. Romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li odiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo. Altri invece li deridevano e dicevano si sono ubriacati di vino dolce. Bene, allora cominciamo subito a vedere il primo problema, la cronologia. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, noi sappiamo che il mondo orientale computava il tempo in maniera leggermente diversa da noi. Il giorno andava dal pomeriggio al pomeriggio. E quindi se il giorno della Pentecoste stava per finire, siamo verso sera. Questo fenomeno della Pentecoste quanto dura? Di per sé tutta la notte. Perché Pietro, quando inizierà il discorso, dirà che sono le nove del mattino. Dunque noi abbiamo una successione temporale piuttosto consistente, sbrigata in maniera anche piuttosto nascosta, perché l'autore non specifica più di tanto. Dice che è successo questo. Stava per finire questo giorno della Pentecoste, tutti erano in questa casa e venne all'improvviso dal cielo un fragore. Quando? Alla sera? O al mattino? Perché se è alla sera vuol dire che la Pentecoste è durata la notte intera. Se è al mattino, ed è più probabile, si può capire perché tutta la gente, sentendo questo baccano, si raduna attorno a questa casa. Poter decidere adesso è difficile perché, se notate, l'autore non è che specifici. Presenta una scena, la colloca alla sera e poi dice è successo questo, la folla si è radunata, Pietro ha parlato. Verrebbe per istinto di dire, beh, questo momento di incontro lo hanno avuto alla sera, però il tutto dovrebbe essere avvenuto al mattino. Giurare su questa affermazione è difficile perché, come notate, i dati non sono estremamente chiari. Un secondo elemento su cui prestare molta attenzione è questo fragore, questo vento che si abbatte impetuoso. Certamente si possono dire diverse cose su questo testo. Cos'è un'esperienza esterna, un'esperienza interiore descritta come fosse un'esperienza esterna? Secondo, perché questa esistenza? Prima il fragore, poi questo vento impetuoso? L'autore ha voluto forse suggerire al lettore qualche richiamo, qualche aggancio. Noi non abbiamo presente nel mondo biblico, almeno apparentemente, un vento forte, impetuoso, qualche cosa di così robusto, che venga richiamato in maniera immediata alla mente del lettore. però qualche cosa c'è. Se voi avete la Bibbia, prendete per cortesia il capitolo primo del libro della Genesi e leggiamo il secondo versetto. Genesi 1,2 La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. E noi andiamo tranquilli, perché una traduzione è così bella, come può nascondere qualche difficoltà. e invece la nasconde. Questa traduzione è esattamente quella del versetto 2 e la traduzione del testo greco dei 70, dove noi troviamo l'espressione Pneuma Theu, Spirito di Dio. Però se andiamo a vedere il testo ebraico, il testo ebraico ha Ruach Elohim. Questa parola, Ruach Elohim, nasconde una difficoltà. Perché il termine Ruach, in ebraico, può dire anche Spirito, ma può dire anche Vento. Il complemento di specificazione di Dio non necessariamente significa qualche cosa di divino. Per colpa di questo complemento di specificazione, agli esami di Cuneiforme, quando ho fatto l'esame tanti anni fa all'Orientale, all'Istituto Orientale, io mi sono perso la lode. Mi hanno dato 30 e niente lode. Perché mi avevano dato una tavoletta da tradurre, un'ora di tempo, senza vocabolario, come al solito. E c'era questo sovrano che regalava alla regina un manto di Dio. Io ho tradotto di Dio, l'ho trovato, l'ho tradotto. Poi facciamo l'esame orale, ovviamente, poi si vede il testo scritto insieme con il docente, e il docente mi dà del somaro. Dice, ti sei giocato la lode. Dico, perché? Perché dice, sai che nelle lingue orientali non ci sono tanti aggettivi. E tu? Prova ad ascoltare una donna. Quando gli regali qualche cosa di molto bello, cosa dice? Che è divino. L'aggettivo divino non esiste, mettono il complemento di specificazione. Ci siete? E quindi, il manto che il sovrano ha regalato alla regina era bellissimo. Non di Dio. Cosa che succedono. Allora, questo Ruach Elohim vuol dire spirito di Dio o vuol dire tormenta cosmica? Perché Ruach vuol dire anche vento, non solo spirito. E allora, qui c'è un grosso problema. Come tradurlo? Gli ebrei di Alessandria d'Egitto, Antaliato Corto, hanno detto, no, si traduce spirito di Dio e non si discute. Sì, però il testo ebraico ha tutte e due le potenzialità. Se noi dunque lo leggiamo in ebraico e teniamo presente che questa espressione Ruach Elohim ha queste due potenzialità, noi forse riusciamo a capire perché l'autore degli Atti e degli Apostoli ha insistito su questo vento così forte. E' come se dicesse, qui è nato una nuova creazione. Qui noi abbiamo un qualche cosa di assolutamente nuovo, che non c'è stato mai prima. Non è l'assemblaggio di elementi precedenti che costituiscono l'avvenimento, ma questo avvenimento è assolutamente qualche cosa che proviene dalla infinitezza di Dio e sta facendo qualche cosa di assolutamente nuovo. Dunque, noi abbiamo già un indizio dell'autore sacro che ci dice, è una nuova creazione. E poi al versetto 3 del capitolo secondo degli Atti compare un'altra cosa piuttosto curiosetta. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Avrebbe voglia di dire, non si sono bruciati i capelli. Non è un'osservazione banale. Nel capitolo terzo del libro dell'Esodo succede qualche cosa di simile. C'è un rovetto che brucia e non si consuma. Qui abbiamo del fuoco sopra il capo di ciascuno e non avviene nessun tipo di incendio particolare. Questo accostamento naturalmente ci dice già che il versetto 3 sta narrando un qualche cosa che indica la presenza di Dio, una presenza particolare di Dio in questo tipo di descrizione simbolica che l'autore sta facendo. Allora noi ci chiediamo che cosa sta dietro a queste fiammelle? Capiamo che si tratta di un'esperienza di Dio, ma che cosa vuol dire? Noi sappiamo che il mondo ebraico aveva come punto di riferimento per capire i propri avvenimenti il Pentateuco. Gli altri libri biblici non venivano presi in genere come libri che potevano interpretare ciò che ci accade. Mentre invece i cinque primi libri della Bibbia erano vissuti dagli ebrei come libri capaci di avere il potere interpretativo di tutto ciò che poteva accadere nella vita di un ebreo. Se noi accettiamo questo paradigma, questo metro, questa misura, noi allora possiamo dire così. Stiamo attenti che nel libro biblico della Genesi prima e nel libro biblico dell'Esodo poi abbiamo elementi sufficienti per poter almeno intuire qualche cosa di ciò che Luca vuol dire. Dunque si tratta di un'esperienza divina attraverso il simbolo del fuoco. Se noi accostiamo questo episodio degli atti all'alleanza che Abramo vive quando spacca gli animali e in mezzo passa questo elemento infuocato, testo ebraico di quel brano è un po' difficile da tradurre perché potrebbe indicare una specie di elemento incendiato, potrebbe indicare un forno, potrebbe indicare insomma qualche cosa che ha a che fare con il fuoco. Ed è questo elemento infuocato che passa in mezzo agli animali è Dio stesso. È il simbolo di questa presenza di Dio che dice ad Abramo sì, io e te facciamo questa alleanza in cui sanzioniamo positivamente la nostra amicizia. L'altro episodio in cui Dio si manifesta con il fuoco è il rovetto ardente dove Dio dice il suo nome. Questo nome noi già lo conosciamo e sappiamo il significato. Yahweh non significa proprio esattamente colui che è. Io sono colui che sono, non è proprio così. È qualche cosa di più articolato. Io sono colui che si trova tra gli uomini e nella storia. Se poi procediamo con la lettura del libro dell'Esodo noi troviamo questa colonna di fuoco che si interpone fra le truppe egiziane e gli ebrei fuggiaschi per proteggere gli ebrei. È la stessa colonna di fuoco e guida notturna a questa carovana di gente che fugge dall'Egitto per conquistare la sua libertà. Se noi mettiamo insieme tutte queste esperienze di Dio che si sono manifestate attraverso il simbolo del fuoco noi allora potremmo azzardare senza premere troppo potremmo azzardare questa lettura. Lo Spirito Santo ha fatto percepire gli Apostoli Dio come un Dio amico come un Dio presente negli avvenimenti vissuti come un Dio che difende protegge e come un Dio che guida. Se noi prendiamo in considerazione questi quattro elementi diventa estremamente interessante la figura di Dio l'immagine di Dio l'esperienza di Dio che hanno fatto queste persone. È un'esperienza estremamente positiva non è un'esperienza di paura un'esperienza di tremore un'esperienza di inferiorità un'esperienza di umiliazione ma è un'esperienza di cordialità dello star bene insieme del vedere Dio non dunque come giudice o come creatore quanto piuttosto come colui che sta accanto alla sua creatura. in amicizia come guida come protezione e soprattutto come presenza che non abbandona. Questa esperienza vissuta dagli apostoli è un'esperienza molto forte provane sia che vedremo dopo parlano diverse lingue sono un pochettino trassognati prima di arrivare a vedere gli effetti di questa esperienza di Dio proviamo a vedere chi ne è stato testimone abbiamo un lungo elenco di popoli teniamo presente che questo elenco di popoli non è che indichi una specie di grande ecumene ma sono tutta gente che viene definita giudea e per di più osservante se leggete il versetto 5 dice abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo e poi fa l'elenco se voi osservate questo elenco è un elenco molto curioso nella Bibbia di Gerusalemme se voi vediamo se è meglio all'inizio o meglio alla fine temo che sia meglio alla fine andiamo alla viaggia di San Paolo o meglio ancora no no la primissima cartina a pagina 59 delle appendici voi partite tenete il ditone su Gerusalemme e adesso seguite l'elenco dice siamo parti medi e lamiti abitanti della Mesopotamia se voi date un'occhiata a questa cartina la prima cartina non è proprio quella che ci interessa di più ma è quella più ampia e che ci aiuta a capire cosa vuol dire medi e lamiti vuol dire che c'è una linea di partenza da Gerusalemme e che va verso destra verso est l'elam sarebbe l'odierno Iran e la prima linea di predicazione del Vangelo che da Gerusalemme con Tommaso e compagnia è andata verso oriente e quindi ha catechizzato tutte queste zone fino ad arrivare in Indie se poi notate siamo sempre al versetto 9 dice parti medi lamiti abitanti della Mesopotamia e la linea verso oriente poi della Giudea quindi si ritorna in Palestina e poi si dice della Cappadocia del Ponto dell'Asia della Frigia della Panfiglia se voi osservate si parte dalla Palestina e si va verso nord perché la Frigia la Panfiglia l'Asia non sarebbe altro che lo dire la Turchia provate ad andare alla penultima cartina ai viaggi di San Paolo e li vedete la Cappadocia dov'è la Lidia dov'è l'Asia dov'è la Bitinia dov'è riuscite a trovare almeno una di questi nomi bene se notate perciò voi avete la linea mesopotamica della diffusione del Vangelo la linea turca che sarebbe quella di Paolo la linea dunque dell'Asia minore e poi avete quella del sud Egitto parti della Libia vicino a Cirene e quindi e quindi se tornate alla prima cartina la Libia di allora e la Libia di adesso è lo stesso territorio identificato sempre con lo stesso nome e quindi voi avete dalla Palestina verso sud verso l'Egitto e lo Stato confinante ancora romani qui residenti giudei e proseliti ma poco sopra al versetto dodici non aveva già parlato di gente della Giudea perché qui lo ripete non aveva già non aveva già